Ciao Lari! Ciao! Ciao! Secondo te perché ti ho portato in questo bellissimo posto? Perché inizieremo un'avventura survival? No. Come no? No, oggi ti ho portato qui e ho anche appiattito un pochino perché voglio sfidarti a fare una cosa. Voglio vedere quanto sei veramente brava a costruire. Io sono bravissima. Ah sì? Dimostramelo perché oggi ti sfido a costruire una casa in 10 secondi. Cosa? Sì, allora... Sei fuori di testa? Ho pensato a questa cosa mentre dormivo. Allora, sì, io penso a cose belle mentre dormo. Allora, sì, allora, ci metteremo qui, io qui. E io qui? Io qui. Ok. E tu qui. Qui penso. Qui può andare. E appunto faremo partire un cronometro e dovremo costruire una casa in 10 secondi. Vedremo che riuscirò a farla meglio. Poi però dopo i 10 secondi faremo la casa di un minuto e poi faremo la casa di 10 minuti. Cosa? Sì, secondo me ci sta. Ok, ok, va bene, ci provo, ci provo. Allora, sei pronta? Sì. Mettiti nella tua postazione, lontana. Lontana. Mi metta qui, Domini. Ma di quanto doveva essere il primo in 10 secondi? Allora, io inizierei da 10 secondi, poi faremo la domenica, poi la fine faremo la domenica. Ok, allora, 3, 2, 1, via! Ok, perfetto, tuttutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Però immagina qua metti il letto e poi metti la cest Ed è fatta No, 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 ma non è prima Ci sono le barriere invisibili Esatto, facciamo finta che ci sono Mentre questa è la mia casa, vedi, si entra E si fa la doccia No, è un po' a modibara, sai, entri e stai in piedi come i vampiri Stai così e dormi Sopra una vicella spaziale È vero, una vicella spaziale di legno Che brutta Dai, proviamo allora quello in un minuto In un minuto, va bene Dai, che qui magari qualcosina ci esce Sei pronto? Sì 3, 2, 1, via Ok, allora Sto già perdendo tempo Legno, 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 legno Ok, perfetto Allora Lari, dobbiamo fare qualcosa di veramente carino Mi raccomando No Sì, invece, quanto era questo? Un minuto Un minuto, porca caccia la miseria Devo farla veramente carina Ah Ah Mi sto panicando Mi sto panicando Ah Oddio, l'ho buttato lo scalino No, no, è troppo piccolo No, 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 è troppo piccolo Anche la mia è troppo piccola Uffa, uffa No, no, qui era giusto Ok Qui facciamo un moretto perché se no poi non ci stava nulla ragazzi qua dentro Allora scala, 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 scala per fare un tetto bruttissimo Ma no, no, volevo fare, no, devo fare di una scala diversa Ah Non ho tempo Lari, quanto tempo abbiamo ancora? Abbiamo cin Eeeh, quasi finito No Non ho fatto niente Finito No Madonna E ho esagerato con le dimensioni Allora vediamo la tua casa di cioccolato Perché sembra una casa fatta di cioccolato E' comunque un risultato migliore della mia, sinceramente Questa volta lo ammetto Perché almeno hai fatto la porta e le finestre Ok, non hai fatto il tetto, ma che se ne frega Ciao Io invece ho esagerato Eh, ma perché prima era troppo piccola, poi l'ho fatto troppo grande E qui di nuovo lo spazio mini di due blocchini E vabbè, non importa, vedi che hai iniziato a fare il tetto E ha voluto fare super dettagli, ciao No, volevo fare solo una striscia di scale, poi chiudere sopra e ciao Mamma mia, troppo complicata Ok, ora ci sfideremo a quella da dieci minuti Io in dieci minuti faccio un castello Ah, un calazzo No, io faccio un grattacielo, allora Io ne faccio due Io faccio una piramide, allora Eh sì No, la piramide è brutta Allora faccio il Colosseo Ecco In questo spazio faccio un Colosseo Va bene? Ok Perfetto Io faccio una calza Eeeh, vuoi vincere facile? Eeeh, vuoi vincere facile? Ci sono, ci sono E' pronto? 3, 2, 1, via! Allora Dobbiamo farla molto base Scalline Allora ragazzi Siccome abbiamo più tempo Questa volta possiamo farla più ragionata Più tranquilli Certo Non sclera Ok, va bene Stai tranquillo Poi rimuovo qui Qui una piccola cosina In questo modo Vlad, se si incastrano le due case Eeeh, non penso No, vabbè No, vabbè al massimo saranno attaccate Come le case inglesi Quelle che sono costruite Io non voglio averti attaccato con il cino Ma sì Io non sono rumoroso Prometto No, certo Ok Ora Facciamo sta cosina qui Dai, secondo me la mia verrà carina Dai Non c'è la mia La mia di più No, no, no La mia è molto più bella È molto più oscura Sembra molto Molto medievale E allora non ci piace Sì Allora ci facciamo quelle moderni Sì Silenzio Allora sì 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 Finiamo i murretti Non ho la più pallida idea Di cosa sto costruendo Neanch'io Ti giuro che neanch'io Sto facendo Sto strutto Sul momento Allora Eh ma questo è un altro problema Non abbiamo una costruzione di base Che dice Ah possiamo farla sempre E siamo Siamo sfigati Siamo un po' scendita Allora Ok Ci sono Io sto facendo anche dettagli Nel frattempo Su un cuore di testa Adesso Va bene così No allora Non mi piace questa cosa Questa cosa mi piace di più Ok E c'è la canzone di Vlad E c'è la canzone di Vlad In mezzo Guarda che io sto occupando il meno spazio possibile Io la sto facendo bella E quindi devo utilizzare Allargati nell'altro lato Non so che dirti Muffa Vlad Ti odio Muffa Sempre colpa mia Certo Ma stai zitta Punto subito Alla mio Al mio punto forte Io punto subito Al mio punto forte Va bene Sì Sei invidiosa Vedi che punti a quello Ma no Dovevo fare il tetto qui Ti odio No Vedibile Mi verrà storto Ti odio Vedi a intralciare la Lari Oh mio dio Siamo a quasi tre minutini Già fa Mancanti o Mancanti Cosa? Sì Manca in tre minuti Stai scherzando? No non sto scherzando Guarda che il tempo passa velocemente Ma Ma in tre minuti Io non ho fatto nulla Eh vedi No 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 Eh mi dispiace No 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 Qui si vede la tua debolezza Ovvero Ovvero Il tuo punto debole Il tempo Ma io E il fatto che ti panichi Sì Eh vabbè Problemi? Poi qui facciamo di nuovo Questo Io sono calmissima Perché tanto so che ce la farò in tre minutini Sì 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 Poi silenziosamente dentro di sé No Ah Non riesco a scegliarlo Ah Che bel tetto Ah no Non l'ho fatto io Ah Ok aspetta Perché qui C'è un problemino Aia Aia Caspita Perché fai i tetti bene? Uffa Io? Eh lo so Io sono un pro dei tetti Io ho il diploma dei tetti Mi sono laureato in tettologia Ok Mi manca pochissimo No io dico ok Ok No io ok Ok Io dico ok 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 Come 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 così Non bisogna anche arredarla dentro spero vero? No 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 Poi lei l'ha fatto No Se l'hai fatto Ti brucio la casa Ti giuro che non l'ho fatto Per ora Va bene Ok quanto tempo abbiamo? Eh siamo a 5 minuti Esattamente la metà Wow Cosa? Sì Ma mi hai detto che mancavano 3 minuti Non è vero Lari Ti odio Mi dispiace Io pensavo che dovevo finirla in strafretta Eh allora ciao Ho finito io quasi Coppiamo il tetto a Vlad poi No non puoi È vietato Guarda che 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 ti faccio causa Calini No io lo faccio in modalità brutolari Brutolari? Brutolari Davvero il tetto dello stesso materiale dei muri Mi sto concentrando Per capire Devo fare così Allora abbiamo tempo di sperimentare un pochino Perché non so come adobare questo tetto gigantesco Così forse può andare Mettiamo delle foglie Lari muoviti Oh mio dio mi devo veramente muovere? No lo ce la farò finire Eh sei un po' indietro Perché Lari ti odio Mi odio mi odio Io odio Lari Anch'io odio te Così Ti odio sai perché perché il tetto è storto Com'è il mio? No il mio è per colpa tua Ah Vabbè non si nota No 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 Oh è vero che sto facendo il tuo stesso tetto Wow Allora verrà penalizzata alla fine Non è vero Sì Perché è copiato da un avversario Una cosa ma no ma questo è un tetto classico Un tetto classico Che scusa di cacca Non è vero Scusa di cacca Dai che il mio tetto va sul tuo tetto Ci tettiamo a vicenda Siamo a sette minuti caspiterina Caspiterina Io non ce la farò lo so già Mi voglio già male Abbiamo tre minuti quindi va bene Dai che io ce la posso ancora fare Posso addirittura arredare all'interno Aspetta se hai riuscito a farla in così poco tempo io no Perché mi hai dato ansia in quel momento E allora io ho pensato che caspita mi devo spiegare Caspita l'ho aiutato E ho attivato la modalità turbo Allora mi serve un pavimento Sì sono abbastanza fiducioso che questa sfida Ma te hai vinto Ti odio Vlad E così impari la prossima volta a farmi questi trucchetti psicologici In cui mi prendi in giro Eh vedi vedi Mi hai attivato la modalità super saiyan In cui In cui sono diventato super costruttore Così no no così Così 8 minuti Poi Baule mettiamo un Baule Ok Poi qua facciamo un angolo Cucina Com'è tata 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 come fa goku vorresti tata 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 aia fatto male tata 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 va bene l'aria si sta divertendo a perdere dai 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 no che schifo sì lo so che fa vlad no che fa vlad allora bottoline mi servono ma va bene ci piace anche brutto ci piace cosa le tue case ma chi si guarda in verità non piazza non c'è non c'è una porta ah 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 non c'è la porta tata 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 facciamo così oh mio dio mio dio io devo almeno questo almeno questo ok 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 va bene va bene no 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 io sono abbastanza tranquillo fiduzioso fiduzioso dovevo fare anche e non ce la farò non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai ti prego rai quanto manca? 50 cote e vabbè io sono a posto oddio ce l'ho fatta? giusto in tempo 10 oh mio dio ero stessa a finire no ma che bel quartiere raga raga ma veramente wow ma in 10 minuti abbiamo costruito un pezzo di vanilla vuoi venire a vedere la mia? si ma è meglio della mia allora si appunto vedi ho fatto tutto il tetto bellissimo in effetti avrei potuto aumentare il tetto ancora un pochino visto che avevo tempo ma vabbè pazienza si entra dentro poi appunto c'è l'essenziale e vabbè c'è tutto lo so che c'è tutto bellissimo vero? uffa e vediamo la tua roba no 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 succede succede vediamo la tua casa già puzza da qui allora un po' di deodorante si entra da qui ah e questo non è un ingresso dov'è l'ingresso? non c'è la porta non è arredata non serve la porta non è arredata qui è tutto sicuro non entra nessuno tutti ci fidiamo nel quartiere non entra nei ladri e niente qui c'è un terrazzino è dove il pavimento ti hai fatto il terrazzino hai perso cinque minuti per un terrazzino e poi dentro boh è una casa abbandonata poi sopra cosa c'è? ah c'è un monopone è bello è perché dato cosa c'è? ma il mio che è aperto sopta 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 è aperto no vabbè dai è aperto eh vedi che è aperto è aperto funziona ma come hai fatto in dieci minuti a non farcela non lo so si vede come la sorpresa poi il tetto in questo modo inguardabile cioè meno male che l'hai portato da me ma no parrabile no devi guardare il tetto da questa di parte neanche qui perché qui dovevi fare così nooo non è vero è il mio tetto tipo di tetto è così che ti piace fa schifo fa schifoooo niente abbiamo scoperto con questo video che lari oh ha preso un po' fuoco la casa diciamo abbiamo scoperto che lari non sa fare case da sola in dieci minuti no in dieci minuti non so farle così la gente io voglio fare le belle grandi super decorati con questo video abbiamo confermato che chi sa costruire le case di noi due sono io non è vero si lari hai la tua prova davanti davanti ai tuoi occhi hai la prova si vado via ciao vai via ciao